Allora, io voto no intanto per una ragione profonda di metodo. Questa è una legge costituzionale che è diventata una cosa del governo e quindi corre il rischio di degradare la Costituzione a una qualsiasi legge politica, non più la casa comune di tutti i cittadini. Secondo luogo c'è molta demagogia populistica sulla riduzione dei costi che sono minimi. Per la ragioneria dello Stato sono 58 milioni, meno di un caffè all'anno per ogni cittadino. Il Senato che viene fuori è un senaticchio composto da consiglieri regionali e sindaci che corrono l'invita penale con alcuni poteri anche molto notevoli che finiranno per complicare i procedimenti legislativi e una forte conflittualità tra Camera e Senato. Le regioni vengono private di molti poteri, c'è una forte decentralizzazione a vantaggio dello Stato centrale ma tutto questo non vale per le regioni a statuto speciale che continueranno a godere dei loro privilegi.